Buon pomeriggio a tutti amici, eccoci qui tornati con un nuovo video, siamo alla vigilia dei mondiali in Qatar e devo dire che se all'inizio non c'era grande attesa per questo mondiale devo dire che invece il giorno della vigilia questo mondiale lo attendo particolarmente vuoi perché faccio il fanta mondiale, vuoi perché comunque ci sono grandi campioni, grandi squadre vuoi perché il mondiale comunque è una manifestazione che si fa ogni 4 anni e comunque l'aspetti con una certa enfasi ecco che questo mondiale sono curioso di seguirlo anche se non c'è la nostra amata Italia peccato, sto rosicando ma tant'è è così e quindi in questo video cosa farò? innanzitutto vi dirò chi tiferò in questo mondiale perché quando guardi uno sport, quando guardi il calcio non ha senso guardarlo se non tifi per qualcuno, cioè almeno così la penso devi tifare per qualcuno e poi vi farò anche il mio pronostico su chi vincerà allora, se siete utenti che mi seguite da tempo dovreste già sapere per chi tifo però non tutti mi seguono da tempo e quindi ve lo dico e ve lo spiego io in questo mondiale tifo Argentina ripeto, tifo Argentina per diversi motivi ma il primo motivo su tutti si chiama Leo Messi perché è l'ultimo, l'unico trofeo che gli manca e perché vincere il mondiale per lui sarebbe come chiudere in bellezza una carriera inimitabile significherebbe veramente chiudere in bellezza perché cosa chiedi di più? Messi se vince sto mondiale si può anche ritirare non ha più nulla da dire, non ha più nulla da chiedere al calcio quindi mi farebbe veramente, veramente piacere se lo vincesse l'Argentina per il dio del calcio perché per me il dio del calcio si chiama Messi poi è chiaro che le persone più attempate mi diranno Maradona, Maradona, Maradona io Maradona non l'ho vissuto quindi non posso dire Maradona per me è stato il più forte di tutti i tempi non l'ho vissuto quello che ho vissuto particolarmente è Messi e per me è il più forte per cui forza Messi, forza Argentina ci sono anche delle altre motivazioni non lo vince dal 1986 tantissimi anni, dai tempi di Maradona appunto per cui insomma spero veramente che possa vincerlo e poi ne hanno soltanto due quindi se dovesse vincere il terzo mondiale comunque resterebbero sotto all'Italia basta che non lo vincono Brasile e Germania la Germania perché ci supererebbe visto che ne ha già quattro e il Brasile ne ha cinque se ne vince un altro va a sei quindi diventerebbe quasi irraggiungibile per cui questo è un po' il mio tifo più o meno cioè no più o meno questo è il mio tifo mentre per quanto riguarda il mio pronostico io penso che questo mondiale lo vincerà vedo come favorite o meglio o l'Argentina appunto o la Francia per me sono le due squadre più forti le più complete e che hanno più campioni in squadra però occhio occhio perché ci potrebbero essere delle sorprese non da poco e per sorprese intendo quelle squadre diciamo meno blasonate delle top ma che potrebbero andare in fondo a questo mondiale e perché no cercare di vincerlo e sto parlando di due squadre la prima è il Portogallo il Portogallo che nonostante stia vivendo questa grana con Cristiano Ronaldo ma ho visto la squadra e per me è una squadra fortissima Portogallo è dei giocatori forti cioè partiamo dalla difesa Cancelo Ruben Dias Nuno Mendes poi se andiamo più avanti Bruno Fernandes Bernardo Silva Leao Cristiano Ronaldo come punta cioè sono tutti i giocatori importanti che messi assieme possono comporre possono completare una grande squadra per cui io non sottovaluterei questo Portogallo e come seconda diciamo rivelazione anche se non è non possiamo parlare proprio di rivelazione però io la metto comunque nelle squadre che potrebbero fare molto cammino meno meno blasonata io dico anche la Danimarca la Danimarca è una squadra in forte ascesa ha diversi giocatori bravi non proprio campioni forse l'unico campione Eriksen poi gli altri sono diciamo dei giocatori bravi non hanno dei campioni però ha una squadra forte sta nel girone con la Francia quindi la partita Francia-Danimarca sarà comunque una bella partita da seguire e ricordiamo che la Danimarca nell'ultimo europeo quello vinto dall'Italia è uscito in semifinale quindi comunque è arrivato in fondo alla competizione e comunque stiamo parlando di una delle squadre europee più in forma e più in forma quindi assolutamente la Danimarca può essere una mezza sorpresa di questo mondiale diciamo che a parte Francia-Argentina che vedo le più forti le altre più o meno le vedo sullo stesso livello Germania Spagna non le vedo magari a livello di Francia-Argentina ma sono a livello di Brasile Portogallo ci metto appunto anche la Danimarca Olanda insomma secondo me sarà un bel mondiale equilibrato un bel mondiale equilibrato tutto da vivere io lo seguirò io lo seguirò c'è anche grande attesa come vi ho detto e perché dopo tutto comunque per qualcuno sarà il primo mondiale per qualcun altro sarà l'ultimo mondiale e in particolare parlo di Ronaldo e Messi ragazzi il loro ultimo mondiale quindi ha anche un significato particolare e badate bene il calcio a volte è strano il destino è beffardo chi lo sa che la finale non sia proprio Argentina-Portogallo la finale mondiale Messi contro Ronaldo cioè i rivali di una vita che potrebbero chiudere la loro carriera in una finale mondiale cioè sarebbe proprio la sceneggiatura perfetta delle loro due carriere anche se per me come dico non c'è mai stato paragone perché per me Messi è il calcio però rispetto chi dice Ronaldo per me è stato il più grande io lo rispetto anche se non lo condivido nel modo più assoluto però rispetto le idee e i giudizi altrui per cui sarebbe veramente una gran bella finale Argentina-Portogallo comunque godiamoci sto mondiale rosichiamo dal divano perché questa Italia ci poteva tranquillamente stare al mondiale e il fatto che siamo usciti con la Macedonia è quella la cosa che ci fa incazzare ancora di più perché fossimo usciti col Portogallo ancora ancora dici vabbè il Portogallo è forte lo scontro diretto ci andiamo noi o ci vanno loro ci stava a perdere col Portogallo a Lisbona ma con la Macedonia in casa non puoi mai perdere nella vita cioè quelli il giorno dopo io vanno a faticare se io vanno a fare l'idraulico l'avvocato con chi abbiamo perso con chi con chi con chi e quindi meritiamo di stare sul divano vabbè ragazzi miei queste sono un po' le mie idee fatemi sapere chiaramente le vostre per te e per te per voi chi lo vince per voi chi può essere la rivelazione di questo mondiale e quando dico rivelazione non mi dovete scrivere brasil france argentino queste sono certezze del mondiale non è che sono rivelazioni rivelazioni sono squadre appunto un po' meno blasonate tipo a Danimark che può fare l'esplua questo è quindi fatemi sapere un po' dai cosa ne pensate buon mondiale a tutti in particolare agli amici argentini vi auguro di vincerlo perché con le grandi squadre che avete avuto nella storia parlo avete vinto un po' poco solo due mondiali io penso che meritate il terzo Messi di Maria Lautaro spettacolo non vedo l'ora di vedere giocare l'argentina un saluto a tutti appuntamento alla prossima ciao belli